Buongiorno ragazzi, buongiorno maestre, buongiorno bambini, buongiorno insegnantini. Io sono un bambino, ho 86 anni, ma ancora sono un bambino e quindi ho cantato la bambinezza dell'essere, che è l'essere mio profondo bambino, come diceva il pascolo, il fanciullino. E' molto strano che i bambini non abbiano le ali o che non abbiano le onde. E' molto strano che non si coprono di foglie, che non vivono in un nido. E' antiscientifico che non abbiano petali, che non facciano chiarore, che non profumino come gelsomini. E' inverosibile che i bambini non siano lucciole, che non siano venerati, come santi, che non siano stelle, che non vengono assorbiti dalla luna, che non si alzino nell'aria come canti. Ciao!